Benjamin, sono arrivato a una conclusione. Dimmi, Danca. Penso che dovresti corteggiare un peschericcio commerciale a Bali. È uno schianto. Continuo a propormi escursioni. Benjamin. Sei un gran figo. D'accordo. Quindi... Serrato. Già, Bernie è chiuso per ristrutturazione, significa che sta smaltendo uno schianto. È uno schianto? Oggi definiscono uno schianto. Uno schianto? Ce l'ho viziato. Ce l'avevo già uno schianto di schianto. Beh, che altro c'è da queste parti? The Little Dome. No. Dai. No. The Little Dome. No. The Little Dome. No. Dai, dai. The Little Dome. No. Dai, dai. No. Dai, dai, dai. No. The Little Dome. The Little Dome. Dai, dai, dai. Ci siamo conosciuti lì. Dai, cavolo. The Little Dome. The Little Dome. Non fa niente. Devo rientrare. Li mandiamo alla prossima settimana. The Little Dome. Senti. Lascia entrare un po' di umani, mi fatti. Chiaro? Avere rapporti con gli umani fa bene. Te lo dice uno che ha passato sei mesi lavorando su un peschereccio commerciale. The Little Dome. Cercando di ritrovare se stesso. Te lo ricordi? E sai cosa ho scoperto? Sono arrivato a una conclusione. Quindi fammi un favore. The Little Dome. The Little Dome. Dai. Ok, cercherò di darti retta. Sei un gran figlio. Lo sei anche tu. Ti voglio bene, fratello. Te ne voglio anch'io. Sei un bravo ragazzo. Ah ah. Il mondo diventerà molto piccolo. D'accordo? Da Little Dome.